Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 147esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie a mondo del software libero open source. Questa volta mi sono preso una pausa lunghissima, ma i motivi sono molto seri. Non è svogliatezza, non è robetta del lavoro, ma ci sono stati alcuni problemi in famiglia questo mese che hanno portato mia madre a essere ricoverata d'urgenza e successivamente ad affrontare un intervento chirurgico molto importante. Fortunatamente adesso è a casa, è in fase di recupero, quindi le cose sono andate bene. Non possiamo lamentarci per com'è andata, quindi scusate l'assenza, ma erano cose importanti questa volta. Questa puntata sarà molto a braccio, quindi non troverete i classici capitoli perché ci sono stati una serie di articoli che sono stati pubblicati sulle pagine del blog in questi ultimi 25 giorni e alcune notizie sono di fatto anche un po' vecchiotte, quindi inutile stare lì a perderci troppo tempo con il capitolino dedicato. Parliamo di questa puntata, parliamo di una notizia riguardante. Un'iniziativa lanciata dalla Italian Linux Society volta a chiedere agli utenti di produrre materiale a tema Italian Linux Society su argomenti di renti Linux, il software libero, open source, libertà digitale, open data, chi più ne ha più ne metta. Quindi tutto a tema della nostra grande passione. Questa idea di realizzare questo materiale che deve poter essere utilizzato a mezzo social, quindi per spammare al mondo intero la nostra passione, è nata durante il Merge IT 2023 ed è stata poi rilanciata da Daniele Scasciafrattel. Spero di avermi bruciato bene, io sbaglio ogni volta a pronunciare il suo cognome. Comunque è MTE 90, lo conoscete tutti quanti, se bazzicate il mondo Linux è uno dei più attivi a livello nazionale nella divulgazione del software libero open source. Ebbene, se avete capacità grafiche, se siete bravi, se siete talentosi, partecipate. Su Marcosbox trovate un link nel quale trovate tutte le informazioni necessarie per poter realizzare il materiale. Potete anche prendere spunto da una serie di articoli, di immagini e quant'altro che sono state già postate, quindi potete utilizzarlo come base. Passiamo adesso invece alle notizie riguardanti le distribuzioni Linux. Perché questo mese sono state tante notizie riguardo le distribuzioni Linux? La prima riguarda l'arrivo della versione beta di Linux Mint 21.2. Mentre vi sto parlando, il giorno 25 dovrebbe essere rilasciato tutto entro la fine del mese, quindi entro 5-6 giorni, no, questo mese è 30-31, questo mese è 30, quindi entro 5 giorni dovrebbe essere rilasciata la nuova versione semestrale di Linux Mint. Tante sono le novità di questa nuova versione di Linux Mint che però riguardano principalmente miglioramenti nell'usabilità, nell'aspetto, perché sono state fatte una serie di correzioni a livello estetico, oltre a migliorare l'aspetto e l'usabilità della distro. Su Marcosbox trovate i link per poter scaricare la ISO della versione beta di Linux Mint 21.2. Vabbè, al giorno di uscirà la versione stabile, quindi inutile stare a provare se volete aspettare ancora qualche giorno per poter fare una installazione fresca. E trovate comunque poi una serie di link che vi spiegano quali sono le novità che troveremo su Linux Mint 21.2 e soprattutto su Cinema nei desktop environment di casa Mint. E per ragione di tutti quanti gli utenti Debian all'ascolto c'è stato il rilascio di Debian 12 Bookworm, la nuova edizione stabile di Debian che viene rilasciata dopo un anno, 9 mesi e 28 giorni di sviluppo. Sapete bene come sono quelli di Debian, rilasciano la distribuzione soltanto quando è pronta, non come altre distribuzioni come Ubuntu che costrette ad un ciclo di rilascio semestrali spesso e volentieri fanno rilasci non all'altezza. Questa nuova versione di Debian è molto importante per diversi motivi. La prima riguarda il supporto che viene garantito per 5 anni grazie al lavoro combinato del Debian Security Team e del Debian Long Term Support Team. La novità poi principale di questa versione è che c'è una gestione più semplice del firmware non libero grazie a un nuovo repository e all'integrazione all'interno del programma di installazione. Ci sono poi aggiornamenti ovviamente dei principali desktop environment che non sono di primo pelo diciamo, cioè non sono allineati con le versioni quelle stabili dei desktop environment ma comunque consentono di avere qualcosa di aggiornato, abbastanza aggiornato. Gnome arriva alla versione 43, KDE Plasma alla versione 5.27 RTS, LXDA alla versione 11, LXQT alla versione 1.2.0, Mateo Mateo alla versione 1.26 e XFSE alla versione 4.18. Ovviamente non manca tutto quanto l'aggiornamento dei pacchetti. Questa nuova versione contiene oltre 11.089 nuovi pacchetti per un totale di 64.419 pacchetti. C'è una vastità di pacchetti all'interno dei ripositori di Debian. Ovviamente per maggiori informazioni sulla distribuzione, per i link per poterla scaricare e per i link alle note di rilascio vi rimando l'articolo dedicato su Marcosbox e spero vivamente di tornare su Debian anche io a breve perché ogni tanto bisogna fare, ogni tanto bisogna tornare a Debian, bisogna tornare all'origine, bisogna apprezzarla. Sperando che questa volta Debian non decida di fare la birichina con le mie partizioni Wifi e di andarmi a cancellare cose che non deve cancellare come la partizione Wifi di Windows anche se io gli avevo detto di non scriversi GIMP perché c'ho un disco a parte, c'ho due partizioni Wifi e Debian però, non so, ha voluto piegarmi lo stesso. Non lo so perché Debian ogni tanto mi fa questi scherzetti, vabbè. E in questo arco temporale c'è stato anche il rilascio della nuova Point Regras di OpenSUSE e precisamente di OpenSUSE VIP, il ramo quello stabile di OpenSUSE. La community di OpenSUSE ha infatti annunciato il rilascio di OpenSUSE VIP 15.5. Questa nuova versione, questa nuova Point Regras di una delle distribuzioni più solide fra quelle esistenti ma anche una delle distribuzioni più sottavoletate fra quelle esistenti. La gente, lo sapete com'è, va sempre incontro alle novità specialmente del mondo Linux e ti vedi gente che magari va a provare Arch Linux va a fare tutte quante le N.000 derivate che stanno uscendo basate su Arch Linux che di fatto sono soltanto distribuzioni che hanno un... che aggiungono un installer grafico ad Arch Linux e quindi una serie di pacchetti preconfigurati per l'installazione che male non fa, Arch Linux a mio avviso. Dovrebbe poter introdurre anche un installer grafico di questo tipo per gli utenti senza... così taglia direttamente le gambe a tutti quante tutte queste distribuzioni che hanno soltanto come scopo quello di rendere più facile l'installazione di Arch Linux. Vabbè, trascorso... parte questo. Dicevo, gli utenti cercano sempre queste novità ma non vanno a guardare quel registro che hanno fatto la storia nel mondo Linux abbiamo parlato prima di Debian adesso OpenSUSE è una delle registro storiche ripeto, una delle registro più sottovalutate nell'ambiente del mondo Linux installatela, fateci un pensierino, provatela è solida e ha tanti strumenti che servono per gestire la distribuzione che sono da provare almeno una volta nella vita. OpenSUSE LIP 15.5 è basata su SUS Enterprise 15 Service Pack 5 e riceverà aggiornamenti di manutenzione in sicurezza sino al 2024, anzi, sino alla fine del 2024. Ovviamente questa versione porta i pacchetti più recenti per Mesa per il kernel Linux che arriva alla versione 5.14.21 per le ultime versioni di KDE Plasma 5.27 LTS e quindi di conseguenza anche per gli aggiornamenti di KDE Gear che arrivano a KDE Gear 22.12.3 e le QT in questo caso che arrivano alle 5.15 LTS quindi sapete che adesso in sviluppo la nuova versione di KDE Plasma basata sulle QT 6 che se volete provare, se volete installare dovete farlo grazie che ne sono distribuzioni come come KDE Neon che ha annunciato qualche mese fa anzi un mesetto fa l'avvio della migrazione alle QT 6 per quanto riguarda la complicazione della distro nel ramo instabile quindi se volete utilizzare l'ultimissima versione di KDE avete quella come distro di riferimento se volete utilizzare una versione stabile e fatta bene di KDE provate OpenSUSE e non ve ne pentirete ovviamente ci sono aggiornamenti dei pacchetti base e per impostazione predefinita per tutte le nuove installazioni troveremo il repository OpenH264 che viene preabilitato maggiori informazioni su questo rilascio ritrovate sulle pagine di Marcosbox ovviamente anche con i link per l'installazione e restando sempre a... cioè per l'installazione, per scaricare l'iso per l'installazione dicevo, restando sempre in tema OpenSUSE c'è una notizia che riguarda il futuro di OpenSUSE VIP da alcuni... anzi da alcuni mesi perché da più di alcuni mesi perché è più di un anno che se ne parla gli sviluppatori di SUSE, Linux Enterprise e OpenSUSE parlano di una nuova edizione di SUSE chiamata Adaptable Linux Platform per gli amici ARP i distali erano all'inizio vaghi però comunque l'intenzione è quella degli sviluppatori è quella di mantenere due nuove edizioni per OpenSUSE OpenSUSE Thumbwaid quindi quella versione di OpenSUSE di tipo Rolling e poi una nuova versione di OpenSUSE e di SUSE poi successivamente che va a sostituire VIP che si chiamerà ARP tante sono le modifiche che introdurrà OpenSUSE ARP e ci sono modifiche che riguardano miglioramenti sul nuovo meccanismo di installazione il supporto iniziale per la gestione dei sistemi transazionali GRUB2 che diventa il nuovo bootloader per ARP altre modifiche riguardano i carichi di lavoro disponibili per ARP che sono un container un container Firewallet quindi ci sono una serie di ristrutturazioni alla base della distribuzione poi magari farò un articolo prossimamente dove approfondirò tutte quante le novità che vedremo su OpenSUSE ARP Bene OpenSUSE ARP sarebbe dovuta arrivare a breve diciamo così però adesso gli sviluppatori di OpenSUSE hanno deciso di prendersi ancora un po' di tempo per lo sviluppo e hanno annunciato che ci sarà una nuova un'ulteriore anzi versione di RIP ci sarà quindi OpenSUSE RIP 15.6 questa decisione è nata in seno alle discussioni che ci sono state alla conferenza OpenSUSE e riflette anche ai cambiamenti interni che sono stati apportati al team di ZUP c'è stata infatti la nomina anche di un nuovo distribution architect qualche mese fa questo che cosa consente? consente ovviamente anche ai clienti di avere maggior tempo per adeguarsi alla nuova piattaforma e considerare gli sviluppatori di avere più tempo per il suo sviluppo comunque se volete maggiori informazioni li trovate sull'articolo dedicato sulle pagine di Marcosbox dove ho linkato un video della conferenza degli sviluppatori di SUS dove si parla di questo argomento abbiamo parlato di Debian abbiamo parlato di Linux Mint come non parlare di Ubuntu la derivata di Debian più famosa che a sua volta ha in Linux Mint la sua derivata è un ciclo di derivate perché parliamo di Ubuntu? perché abbiamo una notizia riguardante Ubuntu 23.10 che va ad aggiungere il supporto al tagging in un quarto di finestra a partire da Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur gli sviluppatori di Ubuntu hanno deciso di fare un fork dell'estensione di Gnome chiamata Tagging Assistant per includere la riveduta corretta perché è stata riadattata per meglio integrarsi con l'ambiente desktop di Ubuntu è stata poi rinominata questa estensione per l'occasione Ubuntu Tagging Assistant così come già è avvenuto con altre estensioni di Gnome che sono state prese e forcate e introdotte all'interno di Ubuntu per realizzare l'esperienza ad Exo Plus Ubuntu si può aprire una porta e si possono fare polemiche e quant'altro perché è importante questa estensione? perché consente di gestire meglio il tagging delle finestre raggiungendo la possibilità di affiancare ad un quarto di schermo ed è inoltre possibile ridimensionare gruppi di finestre affiancate è un'estensione molto comoda sia lavorate su schermi molto grandi e vi consiglio di provare questa estensione perché comunque come vi dicevo la trovate anche sullo store delle estensioni di Gnome che la chiamate Tiling Assistant se invece siete su Ubuntu a partire anche già da Ubuntu 23.04 quindi l'ultima release semestrale è stata già aggiunta ai repository il fork si chiama Gnome Shell Extension Ubuntu Tiling Assistant va bene andatevelo a cercare su Marksbox se lo trovate la stringa di testo per poterla installare e continua in perterrito Ubuntu a prendere cose qua e là per realizzare la sua visione di Gnome io apprezzo di più a sto punto quelli di PopOS che se sono fatti il desktop in casa ma se stanno facendo il desktop in casa e passiamo adesso a due notizie negative che arrivano dal fronte di Red Hat Enterprise Linux la prima riguarda una decisione che farà discutere e si ripercuoterà in maniera negativa anche su Fedora molto probabilmente perché gli disoccupatori di Red Hat hanno deciso che su Red Hat Enterprise Linux non troveremo più la versione RPMS di Liber Office quindi quella nativa diciamo così tra virgolette e perché è negativa per Fedora perché lo stesso team di Red Hat che si occupava del mantenimento di versione RPMS di Liber Office ha mantenuto fino adesso i pacchetti Liber Office in Fedora li ha matuti per anni e quindi di conseguenza se se ne va se se ne va il maintainer di Liber Office il maintainer principale di Liber Office anche per Fedora beh Fedora si ritroverà orfana di sviluppatori il team del Red Hat che si occupava di mantenere la versione RPMS di Liber Office è il Red Hat Display System e ha deciso di ridefinire le priorità delle risorse impiegate per lo sviluppo della distribuzione e hanno deciso appunto di tagliare il pacchetto Liber Office e dedicare i propri sforzi a Wayland supporto HDR e quant'altro ovviamente i sviluppatori di Red Hat Enterprise ci hanno tenuto a far sapere che assicureranno il mantenimento di Liber Office nelle versioni attualmente supportate di Red Hat Enterprise Linux che sono la 7 la 8 e la 9 con i CVE necessari per i rispettivi cicli di vita che cosa cambia per gli utenti che utilizzano che utilizzano Red Hat Enterprise Linux e che cosa cambierà per gli utenti che utilizzano che utilizzano Fedora beh cambierà che dovete installarvi dovete installare la versione di Libre Office come fratto pack quindi stacce e hanno deciso oramai non si torna indietro anche se se magari se qualcuno cioè i sviluppatori di Fedora si sono anche resi disponibili e dice se qualcuno vuole contribuire però la vedo la vedo la vedo dura e vi dico pure perché la vedo dura perché c'è puzza di bruciato in Red Hat da quando è stata acquisita da IBM ci sono state una serie di mosse che non mi stanno piacendo e fra le cose che non mi stanno piacendo c'è la notizia che è arrivata come un fumino c'è il sereno qualche giorno fa Red Hat ha annunciato che CentOS Stream sarà adesso l'unico repositori per le versioni pubbliche del codice sorgente relativa a Red Hat Enterprise Linux che cosa significa questo per le persone normali niente per gli sviluppatori di distribuzioni Linux nate per superire una versione quella stabile classica di CentOS che è stata azzoppata sempre da Red Hat e dicevo cambia che gli sviluppatori di Alma Linux Rocky Linux Oracle Linux adesso avranno qualche problema in più per mantenere le proprie distribuzioni perché sarà più difficile per queste distribuzioni fornire build binari compatibili uno a uno rispetto a determinate versioni di Red Hat Enterprise Linux quindi Red Hat è il casino che stai combinando non ha mai Linux ama Linux non ha troppo più Microsoft ultime due notizie di questa puntata riguardano il rilascio della versione 114 di Firefox che va a introdurre alcune gradite novità per la gestione delle impostazioni della funzionalità DNS over HTTPS e va aggiungendo però una piccola novità che non mi è piaciuta come è stata introdotta come è stata spinta ovvero l'introduzione degli articoli sponsorizzati da Pocket nella schermata principale di Firefox adesso che succede succede che nella schermata principale di Firefox se la avete abilitata se non l'avete personalizzata con una pagina predefinita vi ritroverete una serie di articoli sponsorizzati da Pocket che sono praticamente alla stregua degli articoli quelli sponsorizzati su Microsoft Edge a mio avviso l'hanno gestita male avrebbero dovuto spiegare con un pop up dice io ho introdotto questa cosa che è remunerativa insomma tutti i vari cazzi e mazzi che quando si introducono queste cose però avrebbero dovuto specificare si che sto introducendo che vuoi fare vuoi attivare o vuoi disattivare un bug of choice sarebbe stato gradito invece no l'hanno attivata per impostazione predefinita e sulle pagine di Microsoft vi spiego come disattivare vabbè è semplicissimo c'è una voce da spuntare però non tutti ci arrivano immediatamente infine l'ultima notizia di cui vi voglio parlare è un articolo dedicato a Surfshark che ha introdotto una nuova funzionalità ovvero il servizio di IP dedicato grazie al servizio di IP dedicato adesso gli utenti di Surfshark avranno la possibilità di attivare un IP unico che possiamo utilizzare solo noi se lo attiviamo quindi è nostro e personalizzato e una volta che ci connettiamo ad un server VPN designato otterremo sempre lo stesso indirizzo IP e questa è una cosa molto comoda per chi si connette da remoto e quant'altro ed è anche importante perché impedisce il nostro IP di entrare in una block list che molto spesso capita con questi servizi di VPN attualmente non ci sono server in Italia però è in arrivo uno a Milano e maggiore informazione ovviamente li trovate sull'articolo dedicato sulle pagine di Marcosbox e trovate anche un link affiliazione acquistando il servizio VPN di Surfshark mediante il mio codice referral potete supportare il blog e potete farlo anche acquistando che ne so su NordVPN e su AdressVPN perché fanno parte tutta della stessa famiglia trovate sempre il link su Marcosbox e or bene con questa ultima notizia si conclude qui questa 147esima puntata del podcast di Marcosbox lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox ci leggiamo sulle pagine del blog che li scrivo più assiduamente mi trovate più spesso rispetto al podcast ciao ciao e buonanotte